Ciao ragazzi, eccomi qua, come dire sono tornata con un vlogmas questo vlogmas mi è stato richiesto da una di voi in uno degli ultimi video che ho fatto perché voleva vedere appunto come avessi addobbato la casa purtroppo io non sono in buone condizioni, purtroppo non sto bene da più di una settimana da quando sono tornata da Milano non so se ve l'ho accennato in qualche video forse nell'ultimo svuota la spesa, comunque sto male con la schiena da 7-8 giorni in realtà già avevo dolore di schiena da un bel po' però diciamo non era fisso da circa 7-8 giorni è fisso quindi non sto tanto bene ieri sono andata dall'ortopedico e purtroppo mi ha riscontrato una lombosciatalgia quindi non posso fare sforzi, non posso prendere pesi devo stare in pratica più a riposo possibile e quindi niente, però naturalmente volevo girare questo vlog tanto non mi pesa tantissimo girare questo vlog quindi oggi staremo un po' insieme non so adesso quanto giro perché al momento il dolore non ce l'ho però a un certo punto il dolore è talmente forte che pensate ieri mi sono messa a piangere comunque chiedo scusa anche per la faccia sono in condizioni pessime oggi comunque è giovedì 20 dicembre in questo momento è mezzogiorno io sono sveglia dalle 9 e mezza circa ma calcolate che comunque sto dormendo male da un paio di giorni da quando sto male ieri dovevo andare al lavoro non ci sono andata in questi giorni naturalmente non ci vado perché con il lavoro che faccio io è impossibile non fare sforzi e non prendere pesi quindi vabbè manderò il certificato e niente ragazze oggi staremo un po' insieme appunto e come da richiesta di una di voi appunto vi faccio vedere un po' come ho addobbato casa e niente questo naturalmente è stato un pre-vlog e niente comunque per quanto riguarda questa lomboscialagia vabbè ieri sono stata appunto dall'ortopedico e niente vabbè mi ha dato una cura mi ha dato delle siringhe una volta al giorno per 10 giorni ecco adesso sta cominciando un po' il dolore aspettate un attimo tutto a posto stavo dicendo mi ha dato una siringa per 10 giorni non so di cosa sia mi ha dato degli integratori 2 per 20 giorni e takidol da prendere la sera che per fortuna mi ha fatto dormire perché comunque c'è scritto anche ieri mia mamma ha letto come si chiama gli effetti indesiderati porta sonnolenza quindi più o meno ho dormito abbastanza bene insomma rispetto alle altre notti e niente quindi vabbè questo sarà un vlogmasso dove appunto vi farò vedere un po' casa addobbata e appunto vi ho parlato di questo problema spero che Natale me lo faccio in santa pace nel senso che da qua a Natale mancano 4-5 giorni cominciando la cura poi sperando che Natale me lo faccio bene e niente io oggi dovevo andare a fare ricare al mio fidanzato ma non credo di andare a farli adesso vediamo un attimo come mi sento anche se devo andare mezz'ora giusto per farli al volo e niente vabbè noi ci aggiorniamo dopo ragazze eccomi qua tornata con il vlog come vedete mi sono spostata nella stanza dove ho tutte le mie cose i trucchi i gioielli perché vi voglio far vedere una novità oggi appunto sto girando il 20 dicembre tra 5 giorni in pratica e Natale e ogni anno io con il mio fidanzato diciamo tra virgolette ci facciamo una lista sia mia che sua e poi appunto quello che riusciamo a fare facciamo e io a Mauro ho dato una lista e tra questa lista c'era la ring light che ho detto guarda però naturalmente non è che la trovi fisicamente la dobbiamo comprare su Amazon lui mi ha dato l'ok mi ha dato il il benestare e quindi appunto ho ordinato una ring light su Amazon l'ho ordinata o venerdì o sabato adesso non ricordo sinceramente e mi è arrivata ieri e niente naturalmente anche se non è Natale in questo video vlog appunto prima del Natale vi voglio far vedere appunto il primo regalo che ho ricevuto che ieri mi è arrivato sotto al box informazioni vi lascio magari il link perché l'ho trovata in un'offerta speciale questa ring light che vi faccio vedere l'ho trovata a circa il 50% di sconto costava cioè almeno così da Amazon adesso io non so se Amazon diciamo così fa i risconti finti comunque da Amazon risultava che costava dai 110-112 a 65 euro e visto quella che avevo visto precedentemente che poi ha preso anche mia cugina che io ho preso io e mia cugina su Amazon costava 59 questa veniva 7 euro in più ma scontata dal 50% vabbè dai prendiamo questa e niente io ieri sera l'ho montata e vi faccio vedere adesso giro la fotocamera e ve la faccio vedere eccola qua eccola qua questa è la ring light che ho preso adesso naturalmente sta molto molto bassa come posizione si può passare ancora di più perché questi tre piedi si possono mettere fino e giù quindi immaginate veramente può stare molto bassa e addirittura porta due due piedi che si possono alzare ieri l'ho provato arriva quasi al soffitto quindi comunque può arrivare tipo quasi fine a tre metri magari mi vado a cercare nell'ordine e ve lo scrivo sotto magari comunque la ring light è questa porta anche il coso qua per agganciarci sia la fotocamera sia il telefono perché è uscito anche l'attattatore per infiliarci il telefono adesso ce l'ho spenta non ve la posso provare accesa ma nei prossimi video naturalmente la metterò in prova e quindi vedremo vi faccio della resa fa una luce sia calda che freddo regolabile e l'intensità sia per quanto riguarda quando è a luce calda e quando è a luce fredda lo stesso è regolabile comunque è questa io sono troppo contenta di averla ricevuta insomma era il secondo posto tra i regali che ho chiesto a Mauro al primo posto c'è il telefono ma quello arriverà a Natale e poi ho chiesto anche altre cose lui da quello che mi ha detto ha detto che se trova tutto mi fa tutto quindi aspettatevi comunque tanti regali dal mio fidanzato e niente vi volevo far vedere appunto la ring light adesso stacchiamo e stacco e ci vediamo dopo perché in questo momento mi fa un po' male quel problema che ho però ve la volevo far vedere adesso a dopo eccomi qua ragazzi sono ritornata finalmente vi faccio vedere gli addobbi di Natale che ho messo qui in casa adesso sono le 3-10 circa e niente giro la fotocamera e vi faccio vedere partendo dal camino eccoci qua allora dal camino partiamo proprio da qui dove ho messo questa ghirlanda che compri l'anno scorso vabbè sotto c'è il calendario del Napoli perché non mi va di toglierlo però comunque ho messo questa qui perché l'anno scorso era mia intenzione metterla qui e quindi l'ho messa qui carina vabbè una classica ghirlanda con le pigne il ribes comunque questo è il primo diciamo così addobbo poi ho messo di nuovo come l'anno scorso questa catena di lucine anche se adesso le lucine si stanno molto scaricando infatti devo cambiare la pila però anche così spente sono carine comunque fanno decorazione poi sul camino vabbè ho messo questo questo coso rosso qui che mia mamma mi ha ricavato da delle vecchie tende di mio cugino e qua ci sono faccio vedere prima in panoramica tutti gli addobbi e vi faccio vedere allora questo è un alberello in legno fatto artigianalmente lo hanno regalato a mia mamma due anni fa una sua cliente però mia mamma diciamo non gli piacciono tanto questi inciucci quindi me l'ha dato a me che è molto carino come vedete con questa palla qui troppo troppo carino poi questo l'ho comprato l'anno scorso da Casanova è tipo tun però non è tun che appunto è questo piccolo presepe vabbè Maria Giuseppe e il bambinello e la stella carinissimo piaceva troppo lo pagai 2,90 euro quindi veramente pochissimo mi piace tantissimo qua vabbè c'è un presepe che io ho comprato dal cinese l'anno scorso 5 euro prima di comprare quello se no questo non l'avrei comprato sinceramente però vabbè comunque tra virgolette è il classico presepe tradizionale il bambinello sta qui perché purtroppo non si stacca cioè per me vabbè già è nato Gesù questi sono staccati vabbè però cioè come regola si può anche togliere però vabbè cioè non è che sono proprio così tradizionalista non fa niente già sta qua il bambinello e poi vi faccio vedere questo alberello qui questo alberello qui l'ha fatto il marito di mia madre perché lui da un paio d'anni a questa parte diciamo si sta molto orientando nel decoupage lavora in legno lavora fa un sacco di lavoretti e questo è uno dei lavoretti che ha fatto quest'anno pensate questo è piccolino mia mamma l'ha fatto di un metro circa bellissimo questo l'ha fatto per me piccoletto carino che si può anche girare vedete lui poi ci ha attaccato questa stellina con della colla al caldo questa l'ha trovata dai cinesi e poi l'ho un po' addobbato insomma ci ho messo delle piume bianche ci ho messo un fiore ci ho messo un'altra piuma ci ho messo vabbè comunque l'ho addobbato un pochettino perché non l'ho addobbato tanto perché sennò poi non lo so tipo ci perdeva un po' non so se vi piace è fatto in casa in pratica e poi qua ho messo quest'altra stella di natale dove ci sono le pigne il qua c'è un fiocco rosso la pigna questo è un'altra con la mia padre l'anno scorso per natale qui all'interno l'anno scorso c'erano dei cioccolatini io ci ho messo questa candela giusto perché non piaceva avere il buco carina e poi passiamo a qui dietro no non c'è niente passiamo poi a proposito anche qui ho messo quest'altro appunto runner che mia mamma ha ricavato da una tenda abbiamo ci sta un po' un casino c'è la tovaglia c'è il mio amato aspirabriciola e poi qua c'è anche questo questo anche lo compri l'anno scorso che è tipo uno svuotatasche che appunto lo uso nel periodo natalizio appunto per avere qualcosa di natalizio dove vabbè dentro c'è di tutto aspirina lavamani c'è un po' di tutto le goccine vabbè cose che comunque compro giornalmente e quindi niente adesso passiamo al clou del natale che è l'albero già l'avete visto in qualche video perché ultimamente sto girando dei video dove ve lo mostro da dietro questo è il mio albero niente di eccezionale anzi quest'anno l'ho fatto un po' più piccolo perché non ho messo la base sotto che portava un altro pezzo di albero perché ho dovuto mettere vi faccio vedere questa base sotto questa è la base degli ombrelloni che noi usiamo in piscina perché purtroppo ogni anno io non trovo mai più la base e vabbè quindi ho visto che comunque dovevamo metterla ho accolto vabbè dai non fa niente non ci mettiamo il pezzo sotto così lo faccio più piccolo infatti non ci ho messo niente quest'anno a fare l'albero e niente ve lo mostro più in vicinanza l'ho fatto bianco e rosso e qualche espressione di grigio c'è questa c'è questa questi li ho comprati quest'anno li ho trovati troppo carini li ho presi al russian li ho pagati un euro l'uno ne ho comprati due queste rose e bianche con questi glitter argento questa è una palla che mi ha regalato la mia migliore amica due anni fa con la nostra foto questa è la foto di quando io ho fatto 26 anni e poi vabbè ci sono questi fiori giganti che io li amo 5-6 fiori di questi giganti ti riempiono l'albero quindi veramente quest'anno ho fatto veramente non ci ho messo niente a fare l'albero per fortuna perché sinceramente non avevo tutta questa voglia quest'anno vabbè qua ci sono questi questi cosi pure fanno un effetto bellissimo ti riempiono l'albero e niente diciamo poi vabbè qui c'ho la farfalla perché l'anno scorso il puntale lo comprai ma non mi piaceva preferisco la farfalla vabbè poi ho messo questo che io in genere ho dall'altra parte appeso però ho messo una cosa più natalizia di là appesa quindi ho messo questo qua poi quando smonterò l'albero lo andrò a togliere poi andiamo avanti andiamo a il tavolino qui ho messo delle cose appunto proprio natalizie ho messo vabbè in questo in questo vasetto diciamo che non c'è zica con natale ho messo queste stelle di natale finte però comunque portano bene questa ceneriera che io compri l'anno scorso dai cinesi sempre con babbo natale questo babbo natale carinissimo fatto in ceramica e questo angioletto con la candila vabbè io ci ho fissa ma non vado ad accendere quindi anche qui ho addobbato un po' la casa adesso passiamo alla tavola alla tavola ci ho messo questa vabbè adesso c'è un casino non ci pensate ho messo questa tovaglia appunto rossa con i fiori molto molto carina e poi ci ho messo questo centrotavola che ho comprato l'anno scorso all'ocean troppo troppo carino rosso con tutti i fiori rossi bianchi le pigne comunque un classico appunto centrotavola di natale e poi passiamo di qua di qua poca roba vabbè ho messo solamente vabbè questa già ce l'avevo da prima però ci ho messo una candela natalizia all'interno questo appunto set rosso di yankee candle con la giara grande di angels wings che questa è praticamente una candela stranatalizia e poi ultima cosa appunto vi ripeto quel cuoricino che ho messo lì sull'albero in genere sta qui però adesso ho messo questo che è proprio natalizio non mi andava di metterlo sopra l'albero perché è un poco troppo grande l'ho messo qui appunto dove ci sta la renna l'alberello poi appunto quando finirà natale rimetterò quello e niente ragazze quindi questo appunto è il mio addobbi natalizi niente di eccezionale vabbè è rimasto fuori che ho appese le lucine ma non ve le posso far vedere perché c'è un po' di gente in giro ma in linea generale appunto questi sono stati gli addobbi miei di natale e niente spero che vi siano piaciuti e noi ci aggiorniamo più tardi ragazze sono ritornata sono adesso le 16 e un quarto io non mi sento per niente bene però vi voglio farò vedere farò vedere che mi sono fatta adesso un mocaccino perché non ve l'ho detto adesso in questo vlog ma ve l'ho detto nel video svuoto la spesa che in casa mia è arrivata un'altra macchinetta cioè la dolce gusto che adesso vi mostro perché mia mamma l'aveva avuta regalata da una sua cliente però usata e io comprei delle capsule però poi quella macchinetta era rutta vabbè la signora ha dato una macchinetta rutta inconsapevole e ho detto adesso che faccio le butto le capsule e poi ho detto vabbè dai comunque è una macchinetta diversa perché comunque è una macchinetta che può fare anche le varie bibite infatti adesso mi sono fatta un mocaccino molto buono questo della ristora e poi appunto si possono fare varie varie bibite il tè il caffè il nesquik che è molto buono adesso vi faccio vedere la capsula buonissimo il nesquik eccolo qua veramente sembra proprio il nesquik il cappuccino il mocaccino il ginger il ginger il ginseng perdonatemi e niente è una valida alternativa comunque appunto a una classica macchinetta per il caffè per il caffè non la consiglio perché non mi piace il caffè però le bibite sono buonissime adesso ve la faccio vedere eccola qua questa è la macchinetta beh questa è quella che io avevo prima dell'espresso che per il caffè non la cambio con nessuno perché il caffè viene veramente buonissimo con la stessa capsula ci mettete veramente viene buono perché comunque è proprio la macchina che è molto buona 19 bar di pressione quindi il caffè bollente si accende in un nanosecondo e vi fa il caffè in un nanosecondo per quanto riguarda le bibite ci sono queste qua della dolce gusto beh io con l'esattezza ho il modello Giovia ma ci sono i vari modelli che adesso non ricordo come si chiamano questo è il modello Giovia questo a prezzo pieno costa 90 euro ma al negozio l'abbiamo tenuta in sotto costo 50 molto facile in un nanosecondo si riscalda in un nanosecondo vi fa il cappuccino il cioccolato il ginseng veramente di tutto io ho tantissime capsule potete trovare sia quelle là originali proprio della Mescafè che però costano un botto cioè costano 16 capsule sulle 6 euro oppure si trovano tranquillamente le compatibili tra le varie compatibili che io ho provato però fino adesso ci sono quelle dell'Ocean e quelle della Ristora e vi posso dire che sono entrambe buone sia per quanto riguarda all'Ocean ho provato adesso il mocaccino della Ristora buonissimo poi ho provato della Ristora sia mocaccino che cappuccino entrambi buoni e per quanto riguarda l'Ocean invece ho comprato il ginseng che è anche quello molto buono e il cortato che sarebbe tra virgolette il caffè macchiato quindi magari se siete propensi adesso viene Natale oppure magari in linea generale a comprare una macchinetta per le bevande vi consiglio appunto la dolce gusto e trovate tranquillamente le compatibili anche se gli originali comunque devo ammettere che sono buone io gli originali ho ciococcino che ragazzi vi è una cioccolata calda buonissima e ho il cappuccino che anche qui il cappuccino viene molto molto buono e poi la cosa buona è che la cioccolata non ha bisogno di mettere ulteriore zucchero perché comunque già sono bevande zuccherate e questo è veramente buono e anche il cappuccino magari sì ma giusto una bustina non di più però comunque anche senza zucchero comunque le bebite sono buone per il caffè no ci vuole lo zucchero anche per il Nesquick non ci vuole e quindi niente vabbè io volevo fare questo preambolo quest'altra novità in casa mia e niente ragazze noi ci aggiorniamo più tardi ragazze buongiorno ieri sera non ho finito il vlog perché in pratica vabbè sono stata sopra da mia madre e ho dormito di nuovo lì perché sapete il fatto della schiena oggi è il giorno dopo cioè il 21 dicembre in questo istante sono le 11 e un quarto io sono sveglia dalle 10 meno 20 mi sono svegliata mia mamma mi ha fatto la siringa perché vi ho detto di fare 10 siringhe intravuscolari per colpa di questa lombosciatalgia e niente poi ho fatto colazione da poco ho preso un cappuccino e un un kinder cereali ho mangiato come no un kinder colazione più scusatemi come merendina e niente adesso sono sul divaro perché purtroppo in questo istante mi fa malissimo e niente quindi io non so sinceramente oggi quanto riesco a girare perché a parte mi ripeto oggi veramente non mi sento tanto bene e sinceramente se devo fare un vlog dove non so che dire è inutile quindi però naturalmente non volevo chiudere il vlog di ieri sera con un cioè senza averli salutato in questo istante mamma mia non potete immaginare il dolore comunque facciamo una cosa io chiudo qua il vlog il vlogmas lo chiudo cominciandolo ieri mattina e lo finisco stamattina e niente credo che questo sia l'ultimo video che vedrete prima di Natale perché oggi è il 21 questo penso lo caricherò il 24 oppure domenica adesso non lo so vediamo un attimo quindi sì sarà il video precedentemente quello di Natale oppure proprio sotto Natale quindi vi auguro un buon Natale spero che lo passiate bene anzi qui sotto al box informazioni fatemi sapere un po' come lo avete come lo avete trascorso come lo trascorrerete e niente seguitemi su Instagram perché sicuramente quasi sicuramente se mi ricordo il giorno di Natale vi farò gli auguri oppure sicuramente metterò qualcosa per dirvi buon Natale e niente quindi chiudo qua il vlog spero che comunque vi sia piaciuto come sempre come sempre se vi è piaciuto evito a mettere un like commentare condividere appunto come ho detto prima sotto al box vi lascio tutti i miei social Instagram Facebook pagina di Facebook pagina del mio gruppo di Facebook e 21 Buttons e sotto al box poi vi lascio anche naturalmente il link della Ring Light che vi ho fatto vedere ieri e niente ragazze grazie come sempre di di seguirmi e grazie appunto a chi comunque mi ha chiesto di fare questo vlog per vedere gli Adobe fammi sapere tu che me l'hai chiesto se ti sono piaciuti e anche altrimenti anche alle altre e niente ragazzi vi rimando un bacio e ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti